2-3 punti, molto, 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 molto. Cosa ti ho piaciuto? Io parto di moneta antica. Vieni a giocare con me. No, è quello blu. Io, porco. Bovi, ti ho detto quello in parte al Thunderlord, non era difficile. Ma è la destra del Thunderlord, non è giusto? No! E' proprio a sinistra la tutta intrafatta quella cosa. Visto, non è la destra colore del Thunderlord, Bovi. Ah no? Ti sembrava il Thunderlord in cima. Ma che cazzo fa questa? Perché timo è lì? Boh, vabbè, ma quindi che cosa faccio di bello io? Niente. Niente. Eh, guarda, è un altro che ho vinto. Quella era la damage mid. No, 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 fai lì, no. Vediamo che cazzo vieni. Potrei uccidere. Boh, boh, easy. Sì, la vinciamo lo stesso. È arrivando. Io non avevo flash, eh. L'ho già usato. Bra, Samuani! Non ci credo. Ah, è... Yeah! All'ultimo pool. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Ma cazzo vieni. Devo ricordare... Ho messo lo smartcast, quindi può essere qualcosa dallo 5. Dai, non è un problema. C'è una prima volta per dire. facciamoci qualche amico aiuto mettiamo il ward là dentro per favore adesso sai cosa fare ok ah mi hai doggiato pure da strozze mettiamoci qualche amico ma su serio che va si che è da un suo suo porta benvito nil E' un mille? Veramente? E' un mille? E' un mille? Vieni a giocare con me E' un flash? E' un flash E' un muro E' un morto E' un morto Non tocca niente Ok Proprio male E' un morto 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 Facciamoci qualche amico E' un morto Oh, bravo Chialetta Bravo Chialetta Boom Eeeeeee Adesso torniamo E' qui E' attento o no U Io l'ho ultimo Nooo Ehm Ehm Mi dicevo di rifiutare la ultima Arrivò qua Ok Adesso lo bisogna No Contro per... Ecco che... Ho guardato qui Tutile è quel problema Ok Vado... A metterla a pink fra poco Recolla, recolla Non credo Chi ce l'ha chiede i casseri? Io ho fatto... Sì c'è il pietassi Ho fatto fuori uno Vieni a giocare con me Vieni a giocare con me Vieni a giocare con me Arrivo morto Fatemi cagare Adoro Guarda che deve essere mortato qua Pietro eh Aspetta C'è qui stesso Qui dentro Ehm Riei Riei guardate Sì L'ho appena tolto C'è C'è Ho dato una ulti Speri che non è Ma vedi tipo la ultima Ah no No scusate ho sbagliato Dai Sei ridata prima me Eh Non sono riuscito a... Eh Sì Sì Non so perché sono morto Ma stavo incolpato dietro Che ho Ciga Ti lascio da solo un attimo che vado a guardare No no Sto arrivando anche Master Arrivo da dietro Sì Ne faccio uno da qui Uh Via 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 Sono in quattro qua eh Dietro Buona Uh Sì No Ciga Sì Questa è una Si Detente eventuali Dipittimo Io ho lo stun Mighty bear Ehm Torna indietro Eh Torna indietro Ok Torno Drake 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 Eh Io non ho ward però eh Posso però sminare Ah Eh beh smina davanti a me Eccola E' una C'è un ward qua Occhio c'è Vayne indietro Ma dove è Vayne non può far niente Ok Mamma Io becco Occhio è venito qua, venito qua Sì Ok no niente Se vuoi darmi il blu sarei molto contento Se ti salve lo fai Dove andiamo? Se giro di mele che fai Entro tu quel Fiddle mi seguite eh? Eh poco mana ecco Io non ho la ulti per l'ingazzoare Non ho più ward chica io eh Sì tranquillo Sì Rule quello completo Ecco si nasconde con i funghi attorno Me non è serba Sì Ispuderù Becco La luce Esh Rungo qui? Lui eri invisibili Questa volta Però non ce l'ho Nooo... Arrivo bot? Cioè, perchè adesso mi... ...divano. Oh, qua c'è master. No, niente. Perchè mi arrivano in due qua. Quando... Ah no, ok. Tu becchi... Eh, beccato anche la dotta. Se questo tenta di venire in avanti lo... 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 lo tiberizzo. No, chica, becca se devi. Lascio becco, faccio sta wave. No, non c'è mai ma stare a... No, ti mo, ti mo. No, ti mo, ti mo. No, niente, niente, niente. Mi si è in più, mi viene. No, non c'è più, mi viene. Ok. Non c'è la location per il bot. Uff, uff, vamo, vamo, salino. No, non c'è. Ultami. Eh, ti ulti, ti ulti. No, no, no. No, Bob, non darò lì troppo a casa. Ragazziiii. Ragazziiii. E io la cassa di davanti. Cosa ci faccio vecchio? Mi si tratta percibare. Torno in bocca. Torno in bocca. Tiacopo che caso c'è a fare quella ulti? Per usarla? Eh, ci difendono ogni tanto, magari. Arrivo, arrivo. E' un brutto giangelo. Dove andiamo? Arrivo. C'è un brutto giangelo. Ehi, adesso. E' zitto, il dodge per i cuti. No, l'ho tirata prima da ulti. E' per voi. Boh, prendiamo la torre. Tanti p qui? Che torre? Se muovi. Qui? Uro, matti? Sì, è timo. Dio, madonna. E' timo. Porca buttana. Serie di uccisione interrotta. Ero fuori posizione, scusate. Eh, no, no. Npnp. No, no. Eh, no. Eh, no. Che vuoi fare, credo. Eh? No, 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 no. Non è... ti fa, ti fa bene. Vai via, scattino. Non è solo via. Cioè, è solo via. Cioè, è solo via. È solo via, a casa di rica tutti. Per cui andate via e basta. Passa via, è morto. Ma arriva... No, non è nessuno. Ma l'ho, è sbagliato. Eh, è albubb, prima di arrivare qua. Sì, sfidi lì. Sì, sfidi lì. No, è più via. Anche io credo. Sì, anch'io sto rimando. Sì, sfidi lì. Adesso è vero. Quattimo qua. Ok. Io ho un primo flash. Sono ancora lì? Eh, non li vediamo. Eh, questa cos'è? Ok, va veramente in filo. Oh! Stava ricollando qua? Ok Sai fanno le ward up in realtà Vediamo il fidole Lì di capiteria No, ho trovato di meglio Ho trovato di meglio Ho trovato di meglio Ho trovato di meglio Ho anche un fidole però adesso Cazzo, mi ha trovato di meglio Ho trovato di meglio Ho trovato Ho trovato di meglio Occhio che mi fa la terra quello E io non ho il fido Vediamo, viene top cazzo di me Guarda quel coso Occhio che viene top cazzo di me, non ci esate Eh, siete morti Porca madonna Che venga adesso Sì, si è outato Via K Non state bravi Eh, perché lui ha la blade Ma la idea Ho paura di entrare in un bush Sì, a lui la ha vittinato a bordo Sì, sì Io ti finisco qui Voi di cativeria Possiamo farli questi di cativeria Sì, sì, sì Dei prenderate le cose Sì, sì Dei prenderate le cose Vamo, vamo Beh, riprendi le cose Ok, ok Ok Buona Uh, qui, dammelo Ok Hai fatto Sì, ce la puoi fare Ecco dentro Bello Bella Bella Occhio Dietro cazzo di Bello Master Buona Ok, ancora il tiber Sì, vai Vedi qua Drago E quello è il tiber? Non lo so Vedo che è il Solo fighter, eh Ah, io non ce l'hai Ma perché è morto Master È morto Master? Sì Lo faccio io Il Drago Chi si soraka Sì 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 Spingi e prendi l'altro Dove andiamo? Rega, entro tutta la vei Sì 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 Bella Bravo Stato Occhio In casa lì Faremo anch'io Eh bravo Non ce l'ho fatta mai Ah, doveva fare il baitone Dovevi far finta di uno che non fosse guardato È qui Ho traccia Master Faremo anch'io? Master lo facciamo Master lo facciamo Mi date una mano? Mi date una mano? Sì Siamo andati su Master Eh vabbè Che schiavo non c'è Non devo fare così Non lì Non lì No Ti è scatto Eh Scatto perché si è entrato Grazie In questo momento È un run Questo è stato bello attenti eventuali funghi occhio dietro ah scusate ho sbagliato gli ulti ma chi? con chi ero? con me cosa c'è? se io mi ho flashato ah ok posto perché hai piato gli ulti subito? eh ho sbagliato no c'è ah c'è all'inizio su te è un cazzo era il mi fanno fuori prima che li passano gli altri e siamo andati troppo avanti tu lo facevi fuori e andavamo via è un moto per il cazzo prima andiamo bot facciamo quella vane porca troia funghi di merda non devo ingaggiare però qua dai KD tira una bella l'u facciamoci qualche troverla stasera good job cacono uh Kassadin dio poi che danno che fa Kassadin ma che paura che paura è un cazzo mamma mia si è quasi fatto il cazzo eh 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 mi giù è un cazzo timo ok ok timo dietro timo io? o si? no era qua era qua timo è qua timo eh sto arrivando sto arrivando allora avuti si no arrivo io ma per chi c'è? ma perché inviate? inviate la dava inviate la prima inviate la prima inviate la via che cazzo facciamoci qualche eh ah si ok c'è Fiddle che è qui Fiddle è da me ok io lo vedo Fiddle che sono un cane ok via via si vigno si in top eh lo so ma sai com'è? qualcuno dice che non può pushare non sappiamo che era non sai come infatti sono il minion quindi vuol dire che la plane è stata pushata da l'unico ah vuol dire che manca una torna ecco anzi dovrebbero pushare di più gli altri e poi Timo che è il deck dopo 3 euro riusciamo a difendere questa torre io arrivo Fiddle quanta vita ha? poca vita la torre Timo è top ok arriva Master alle spalle di Amumu sono anch'io dietro ci sono anch'io dietro ci sono anch'io dietro Timo in caso è sempre più pieno vabbè fatevelo anche uff ok no ok bella bella che si dice no cazzo devo lasciarli prima scusate a sto punto non lo sono anch'io eh fate il drag push up è bello 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 questo problema dovresti avere quanto team raccolpi e sono morto adesso è 3 livelli si ulti lo illudi non faccono tutte le donne con me eccolo là bravo bravo Chiaretta che rischio è pazzo che cosa riusciamo a prendere l'amimi non credo non credo ma non sono ancora attivi tipi diversi di drag però no no li hanno solo fatti annullare oppure come tutte le dita con me è meglio è solo una macchina non è solo una macchina ma ma il prossimo sono morto per cui non è venuto chi è che ha flashato? a loro ma non noi Morro l'oraro Faccio Uh, Vayne Aaaa, è troppo tardi scusa Pietro Vabbè vabbè vai te lo fai! Ve lo ha fatto! Mi fa tanto lave Quello Calsissimo Nooo, vai E infatti lo aveva fatto, non lo ho fermato Che pagno, ha fatto una cosa su mio flash D'acù? Si, mi ha seguito Arrivo mid Non abbiamo a torre, cacchi No Dai, vai, tu ce l'hai ulti Ma incredibile quello no Occhio, qua c'è un fungo, eh Oh, non l'ha preso mia Ti ho rischiato di essere travolto dell'aria Eh, ho visto Uh, questo è entrato Sì, ciao cucciolo Mi hai sentito Che bella la tua skin Vado io e bot Ok Ok Che si è scatto Occhio che quello arriva da Stasso di indietro Stasso di indietro, Mico Oh, oh Ragazzi C'è, ve lo fate, ve lo fate, ve lo fate Vado via, sorry Grazie Oh, puttano Bello Che era una bella vita Proprio just in time Just Che ho 3.700 Grazie Quindi tu sono tre Occhio Ma sono questo Sì, 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 sì Sì, 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 sì Bred, baron, baron, baron T-Bass, come cazzo vai, c'è tu di un spinger Bred, baron Bra Occhio Ascchio, arriva Arriva C'è il 2 e... Entriano Sì, è guai, guai Uh, eccolo Buona Mi trovo l'idea Uh, ci trovo Sì, lasciatemi sempre col baron, grazie Bred, tu non sei qui No, c'è un ruolo, sì Vado a prendere Ciao Vieni a giocare con me La dopo prendiamo Sì No, non quello vuoi Tra il ninja Da qualche parte Una la prendiamo In teoria Va a tutte e due Sì Sì Tutte e due Angel Rai Forse Entriamo anche In brano No, no Non so In vivo Cosa Possiamo andare Qualche pa Sì Possiamo andare Andiamo 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 RIVATIMO LA GANETTI RIVATIMO LA GANETTI RIVATIMO Tempo silenziato Tempo silenziato Bruto puttano Non è venuto qua Stai morto? Ma sono andato venuto qui Via via DRAKE DRAKE Speriamo dal drake RIVATIMO Vi seguo no? No E' partibile questo aspetto Sì sì Sono qui 3 2 1 Bello 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 No essere in 5 Sono vivi in 3 Niente back Beh io e te non siamo la copiata prima Ah no? Prendiamo questo mid Ok No anche qua arrivano Andiamo via back Sì E' anche casa Faccio in 2 Faccio in 2 Faccio in 2 Sì 2 di mid Faccio in 2 Faccio un campo e dopo I soldi per la Per la scuola Eh torniamo indietro Non venire dal Gidash Ma se non la mettiamo tra l'ultima Facciamoci qualche amico Tu credi Ah scusate sono fuori posizione Merda 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 Dove andiamo? Guarda che c'è un figlio in me Arrivando Scegliamo Ah scusate ho sbagliato io No 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 Ero a campi Io ci sono eh Bella ultima giga Eh andiamo ad inibitor Prendi quell'inibitor Perché fanno poco i bully questi Occhio avete Master Però Di aver male Io ho 10.700 Fumiti No inibitor no finisce inibitori Siamo con un fungo lì Via 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 Facciamo due minuti a drago Bisogna fare barb Due minuti Per due minuti Adesso abbiamo due minuti di pace Basta trovare una spinta Io spiego in botta Vi fai in un'altra mano Vi fai in un'altra mano Vi fai in un'altra mano Vai vai Ulzi E' un'altra mano E' un'altra mano E' un'altra mano E' un'altra mano usciamo mid e prendiamo il Baron al Baron? aspetta io ho 5% girata girata qua oh no non lo so non lo so non lo so mamma mamma vado bot lascia la mia fruta no ho frasciato eh ho usato anche il collo non è che l'ha finita sperate mi ha salvato veramente no farò da finire non lo avevo visto si qua qua help 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 guarda guarda mi ha solo un po' lì guarda guarda adesso non prendo adesso non è raro guarda facciamoci qualche squadra ok si 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 scrivo che ti u che sc